Cosa ha di speciale che ha così, diciamo, fatto breccia nel tuo cuore da mostrarti così sicura del vostro amore? È una persona preziosa, estremamente autentica, con dei valori che... Sembriamo il giorno e la notte, io visti da vicino, per chi ci conosce all'inizio non ci conosce bene, ma in realtà poi quando siamo solo io e lui, quando parliamo, che siamo in una stanza, a letto, in tranquillità, siamo esattamente identici, abbiamo gli stessi valori, gli stessi ideali, gli stessi obiettivi, ci supportiamo tantissimo, lui crede molto in me, questa cosa mi dà una carica, una grinta non indifferente, lo stesso faccio anch'io per lui, con lui, è una persona preziosa ad altri tempi, si prende estremamente cura di me, non mi fa... non so, si accorge ancora, io sono qua con la pelle d'oca, lui mi avrebbe guardato, mi avrebbe dato la sua giacca, è molto, molto, molto attento, è molto presente, è diverso. E cosa sogni con lui? Sicuramente di collezionare tantissimi momenti incredibili, di passarci veramente tanto tempo.